Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. Sono nato nel 1976, pertanto sono cresciuto in un mondo in cui moltissima tecnologia era analogica, la tecnologia digitale cominciava timidamente a muovere i primi passi, e sono cresciuto in un mondo in cui ho visto, appunto, svilupparsi le tecnologie che sono arrivate a diventare moltissime delle tecnologie che abbiamo al giorno d'oggi. Pertanto, quando ho cominciato questo progetto collaterale, l'ho voluto fare con l'idea di portare un po' di nostalgia per la tecnologia del passato, parlando della tecnologia che c'è nel futuro, ma anche parlando di un po' della nostalgia di quelli che sono stati i tempi passati, di quello che adesso è considerato un po' il vintage, per non dire che sono un vecchiaccio 42enne buttato sulla rete, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque, nell'ottica di parlare di tecnologia del passato, oggi vorrei fare un ragionamento leggermente diverso e parlarvi di un canale YouTube straniero di un giovane e simpaticissimo ragazzo dell'Illinois, che ci parla di come si è sviluppata la tecnologia nel corso del tempo e di quali sono stati le parti di tecnologia nate nel passato che sono arrivate sino al giorno d'oggi. Cominciamo quindi la puntata odierna di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Uno degli argomenti che mi piace maggiormente portare su Operazione Nostalgia è la tecnologia del passato, perché la tecnologia del passato si è sicuramente evoluta, si è avuto una storia che può essere molto interessante. Tuttavia, esiste anche della tecnologia che esisteva nel passato, che non è arrivata ai giorni nostri, perché era praticamente poco pratica da realizzare, perché era dedicata a qualcosa che funzionava nel passato, ma che poi è stato abbandonato, o perché era maledettamente complicata da realizzare e rappresentava più una sorta di esercizio di stile. Ora, il canale YouTube di cui vi voglio parlare oggi è un canale YouTube che ho scoperto l'anno scorso e che è stata una scoperta veramente molto piacevole, interessante e divertente, perché non solo è un canale di grande intrattenimento, ma è un canale che analizza un po' quali sono state le tecnologie che dal passato sono arrivate sino ai giorni nostri, le tecnologie che hanno funzionato nel passato e poi però si sono andate a perdere, perché sono state soppiantate da tecnologie migliori, e le tecnologie che NON sono arrivate sino ai giorni nostri, perché erano maledettamente difficili da rendere in pratica. Innanzi tutto cominciamo a parlare del canale. Il canale si chiama Technology Connections, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, è un canale veramente molto interessante, non pubblica tantissimi video, perché ogni volta che viene fuori un video si parla di un video di 15-20 minuti, con veramente tantissimo studio alle spalle, quindi pubblica approssimativamente una volta al mese, qualche volta, una volta ogni due-tre settimane salta fuori un video, però generalmente il tempo di pubblicazione è quello, circa una volta al mese, eppure sono video veramente molto curati, c'è veramente tantissimo lavoro alle spalle. Inoltre, non solo ho stima di questo ragazzo perché ci presenta delle tecnologie in maniera corretta, mostrandoci le tecnologie in tempo reale, con un sacco di strumentazione, mostrandoci gli apparati che riesce a trovare sui mercatini dell'usato, sulle seconde mani, etc., ma anche perché questo ragazzo cerca di fare in modo che tutti i suoi video siano sottotitolati per i non udenti, e quindi petali di stima aggiuntiva, perché fa lo stesso lavoro che cerco di fare io sul mio canale. Bene, cominciamo a parlare di una tecnologia che c'è stata nel passato, che nei giorni nostri non è arrivata perché era una tecnologia analogica, sviluppata su un protocollo analogico, e adesso che abbiamo il protocollo digitale abbiamo un sistema completamente differente. Il concetto alla base è lo stesso, proteggere un supporto dalla copia. Stiamo parlando di Macrovision, il sistema che permetteva alle videocassette VHS di non venire duplicate attraverso un altro videoregistratore su un'altra videocassetta VHS. Questa tecnologia non è arrivata ai giorni nostri, perché ai giorni nostri, grazie all'avvento del digitale, utilizziamo meccanismi digitali come il DRM. Eppure questa tecnologia, per i suoi tempi, era veramente geniale. Il Macrovision era un meccanismo che introduceva una sorta di disturbo accorciando la traccia di sincronizzazione. Era una cosa veramente geniale, quindi il primo video di Technology Connections che vi voglio segnalare è intitolato, appunto, Macrovision, la protezione anticopia del VHS. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, scoprirete un approccio veramente molto interessante al problema di fare in modo che non venissero duplicate le videocassette VHS. Ma una tecnologia potrebbe non essere arrivata ai giorni nostri, perché era incredibilmente primitiva e maledettamente scomoda da realizzare, soprattutto come vedremo nel video, perché poter realizzare una struttura in grado di avere una risoluzione paragonabile a quella dei dispositivi attuali, si sarebbe dovuto costruire un apparato delle dimensioni veramente di un PALAZZO MEDIO. Sto parlando della televisione meccanica. La televisione meccanica è stata un'invenzione arrivata veramente anni e anni e anni e anni fa, funzionava con un ragionamento che sulla carta è anche corretto, la base di questo ragionamento è quella che in qualche modo è arrivata anche sino ai giorni nostri, ma la realizzazione attraverso una tecnologia interamente meccanica la rendeva più un esercizio di stile che qualcosa di effettivamente utile da utilizzare. Eppure è un esercizio di stile che ha realizzato una situazione molto interessante e che poteva dare l'idea su come sviluppare un prodotto, quello della televisione, quando non esistevano altre tecnologie in tal senso, quindi comunque un passaggio interessante rispetto a questo discorso. Per cui il secondo video di Technology Connections che vi segnalo è la storia della televisione meccanica. Lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, scoprirete un approccio all'idea di trasmettere delle immagini nell'ethere completamente inaspettato. Infine voglio darvi l'esempio di una tecnologia che è arrivata sino ai giorni nostri, solo che è arrivata ai giorni nostri sviluppandosi nell'ambito delle tecnologie digitali, ma quando è nata è nata come una tecnologia che si sviluppava sull'ambito analogico e che doveva avere a che fare con dei supporti analogici. Quindi di nuovo un approccio molto intelligente e molto funzionale ha un problema, il problema di dover ridurre il rumore su un supporto analogico, in questo caso sulle cassette, e il modo che ha avuto una delle più importanti case che lavora con il suono, che è la Dolby, in che modo si è approcciata alla riduzione del rumore sui supporti analogici, sino poi ad arrivare a quella che è la tecnologia del Dolby Noise Reduction, al giorno d'oggi in cui parliamo di tecnologie digitali. Però conoscere la storia dell'approccio analogico al problema, secondo me è qualcosa di veramente molto interessante, per cui il terzo video che vi segnalo è la Dolby Noise Reduction nel supporto analogico. Video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. Lui è Technology Connections, date un'occhiata al canale, iscrivetevi perché è veramente molto, molto interessante. E parlando di tecnologie che sono arrivate sino al presente, tecnologie che non sono arrivate al presente, ma che si sono evolute in maniera differente per via di un approccio differente, o tecnologie che c'erano nel passato e sono diventate totalmente impratiche da realizzare nel tempo presente, ecco la mia domanda. Voi crescendo siete stati a contatto con tipologie di tecnologie di questo genere, tecnologie che sono arrivate sino ai giorni nostri, sviluppandosi lentamente nell'ambito digitale, tecnologie analogiche che sono scomparse, tecnologie analogiche che erano totalmente scomode e impossibili da realizzare nel giorno d'oggi, e al giorno d'oggi si utilizza un approccio completamente differente. Raccontatemi un po' quali sono state le tecnologie con cui avete vissuto nel passato? Magari ditemi qual è stata la prima cosa tecnologica di tecnologia elettronica, di tecnologia meccanica, di tecnologia elettromeccanica con cui vi siete scontrati nel passato quando eravate piccoli? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi ricordo di mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale, iscrivetevi anche al canale di Technology Connections, perché merita veramente, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!